Salve a tutti siamo qui con un nuovo video, un video di The Last of Us e in questo video tutorial vi spiegherò come sconfiggere il boss questo è il boss, è un specie di mega macigno, di mega ammettato da giorni che oltre a essere pericoloso quindi non vi potrà neanche toccare perché se vi toccherà praticamente morirete subito perché vi stacca la testa comunque salvo il mio amico che sennò ok grande tu intanto sconfiggimi i mostri ok allora il mega infettato quindi vi lancerà sempre a voi più o meno a parte se proprio siete lontanissimi da lui vi lancerà le dispore che prenderà direttamente dal suo corpo vediamo che altra pistola ho ok questa e come potete vedere il Billy vi aiuterà nel distruggerlo ma la parte più grossa la dovete fare voi visto che verrà sconfitto dopo diciamo 25 colpi di fucile a pompa ovviamente io non ne ho 25 anche perché devo sopravvivere con le munizioni che trovo ma pian piano cercando di evitare i suoi colpi dandogli colpi alla testa solo colpi alla testa vediamo che altri fucili ho oh perfetto questo mi piace togliti Billy prima o poi cadrà a terra e ecco qua vedete gli abbiamo tolto un bel pezzo di testa adesso pian piano pian piano perde sempre oddio ecco qua morto quindi avete visto che se riuscite a colpirlo in modo perfetto in testa vedete gli si staccherà un pezzo e con due colpi in più vi cadrà a terra questo potete quindi se avete mira e tempo e munizioni con questa carabina magari che è ottima io l'ho potenziata anche nei livelli superiori e ho aggiunto il mirino eccetera se fate sempre colpi in testa prima o poi riparte un pezzo e da lì avrete la facile ok quindi arrivederci a tutti ci vediamo in un prossimo video statemi bene